Questo è un derby speciale perché è il mio primo gol in un derby, questo è un derby molto speciale perché era il mio primo derby e ho fatto subito un gol di testa, allora è un gol che lo porto nel mio cuore, tutti i gol che ho fatto nell'Inter lo porto nel mio cuore, però il gol del derby sempre sono speciale, allora questo è un gol della mia qualità, della mia attitudine che aveva differente, che era il colpo di testa, allora è un gol bellissimo in cui Coco non mi prende, mi ho alzato soprattutto, è rimasto un secondo più che l'altro e ho fatto il gol di testa, è stato un gol bellissimo, bellissimo, l'atmosfera quella giornata è stata anche bellissima e è un gol molto bello, credo che questo e un altro con, non lo so se con il Cino Recova è il gol più bello che ho fatto in un derby. Abbiamo detto prima questa partita, il Cino Recova mi aveva detto che se io marcavo un gol, che io prendeva la spalla di lui e se lui prendeva un gol, io mi faceva la mia spalla mia, ho fatto il gol io, è un servizio di Vaggio a Cino Recova, Cino praticamente solo in aria e mi ha visto che dall'altra parte veniva urlando Cino, Cino, Cino e praticamente solo senza portieri, è stato un gol bellissimo, è un grande gol e grande vittoria quella giornata lì perché era una partita difficile perché il Milan veneva abbastanza bene, però queste gol di più tranquillità le squadre e potevamo vincere una partita molto difficile. Sono un giocatore del derby, del classico, ogni volta che giocavo un classico importante, Real Madrid, Barcellona, Sevilla, Betis e aveva tanta fiducia in me che io sapevo che Inter Milan poteva marcare, poteva segnare, allora ho avuto la fortuna di segnare questi gol e sono molto contento perché hanno rimasto nel cuore di tutti i tifosi interisti. La preparazione per me era la più rivalità che avevamo, per quello sempre il derby era una partita speciale, non è che abbiamo bisogno di qualsiasi cosa per caricare, allora la mia la mia forma di giocare anche era grintosa, allora non è che aveva bisogno di qualsiasi cosa externa come per uscire in campo e mangiarmi a tutti i giocatori del Milan, mangiarmi la partita perché io era così, io dava l'anima dentro il campo e questa, per me questa partita erano tutti tutti speciali, dormevo poco, in realtà era un momento speciale alla sera, ogni giocatore ha un carattere e una personalità differente, io dormevo poco, ogni sera prima di un derby, se mi veniva la testa che posso fare il giorno dopo, soprattutto con il tema dell'esforzo e di dare l'anima per la mia squadra, dopo si poteva marcare, era allo massimo, godeva allo massimo, però in realtà si dorme poco, si dorme poco perché il cuore, la mente, la testa, siamo nella partita di domani, la partita che avevi con il Milan. Quando io giocavo, poteva definire una partita, no? De tifoso non posso fare niente senza che urlare e dire forza Inter, però con la stessa passione.